Abbiamo messo in piedi in campo delle strategie che poi oggi l'ambasciatore presso l'Unione Europea ha sottolineato come sono importanti perché il problema della migrazione sta diventando anche un problema, lo dico insomma, con preoccupazione di turismo sessuale. Cioè molti migranti che stanno andando in case private, anche minori che vanno in case private, potrebbero inciampare in alcune persone poco gradevoli. Proprio per questo noi abbiamo attivato le associazioni di volontariato già esistenti, quali le parrocchie, che non è un'associazione, ma la Croce Rossa italiana, associazioni di volontariato certificate, diciamo così, e quindi non è possibile per un privato andare in Ucraina e prendere dei minori o accoglierli singolarmente senza essere passato prima da queste istituzioni. Quindi questo stanno facendo gli enti locali, questo ha fatto la mia città e sono contento perché poi oggi l'ambasciatore stamattina ci ha sottolineato proprio questa eventualità.